Il totem della pace da Napoli a New York, nell'era riqualificata da Tom Fox un ulteriore elemento di gemellaggio e di affadellamento tra due città. Un commento del sindaco e di Tom Fox. Noi speriamo che sempre di più Napoli e New York si uniscano, anche un grande augurio al nuovo sindaco, da questo punto di vista di origini anche campane. Credo che sono due città già unite da tante cose e noi lavoriamo per unirle sempre di più. E' bello stare a Napoli e vedere un maestro che importa del fronte e usa il suo office per aprire la buona gente. Il totem della pace del grande struttore Mario Molinari continua il suo viaggio e questa volta verso l'Arlande Mera, verso New York, in un'area importante riqualificata e restituita al popolo e ai cittadini come bordo del mare da Tom Fox, uno dei massimi esperti mondiali su questo argomento. A lui chiediamo l'importanza di avere questo simbolo della pace a New York e nell'area che lui ha riqualificato con l'aiuto della gente e del popolo di New York. La pace è universale e è qualcosa che New York è un simbolo di perché molti persone vivono insieme in pace e questo è un simbolo del mondo in pace e è molto importante. In New York realizzazione in aria e in distanza. Well, we will see what we can do. I think the colors are beautiful, they're rich and vibrant and the yellows are basic colors of the yellow and blue and green and red are harmonized so much and so well together. Grazie. Grazie.